La prima sfilata dei carri allegorici ha aperto ufficialmente domenica scorsa il Carnevale San Benedettese. Nonostante le temperature rigide e il rischio pioggia, l'associazione Amici del Carnevale ha dato vita al primo appuntamento con il solito entusiasmo e la coinvolgente allegria. Al corteo hanno preso parte sei carri, due di essi realizzati anche dall'associazione Cartapesta, il primo dal titolo Magico Egitto che ha visto coinvolti i bambini del terzo circolo didattico ed il secondo dal titolo Carnevale Virtuale ad un grande amico, omaggio allo scomparso ex presidente dell'associazione Cartapesta, Antonio Bordo. Grande successo anche per Halloween, Dr. Jekyll e Mr. Hyde e le superchicche. A dare ritmo e colore all'edizione del Carnevale 2010 è stata la partecipazione di un numeroso gruppo di ragazzi e ragazze africani con il carro Made in Senegal. Altra piacevole novità è stata la presenza sul palco allestito in piazza Giorgini della bella Miss San Benedetto 2009 Laura Paolini. Allora Laura, è un bel onore avere questa pasta, no? È un'emozione bellissima e poi ancora c'è la mia città, il San Benedetto è pronto, è molto bellissimo. A questo punto allora invitiamo tutti a Carnevale di San Benedetto dove prosegue, no? Il meglio di tempo parlo, fai un invito, vai. Venite tutti qui a San Benedetto e ci saranno altre giornate, penso bellissime quanto questa, speriamo una bella giornata. Ai, ai, caramba!